Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia e per una perdita di carico tra Baldarno e Arezzo. In A11, due chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 34 tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione Firenze. In A12, code alla barriera di Rosignano in direzione sud. In A15, un chilometro di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili verso Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Eraovest, Ponsacco e Montopoli-Valdarno e rallentamenti per lavori di messa in sicurezza del viadotto di Ponzano tra Empoli ed Empoli Est. In direzione Mare, un chilometro di coda per lavori tra la dinamazione per Pisa e Navacchio. Sul raccordo a Siena-Firenze e rallentamenti per lavori tra San Donato e Foggibonsi Nord in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!